buongiorno ragazzi le protagoniste di oggi saranno le rane verdi come riconoscerle beh sicuramente il colore ci è d'aiuto in questo caso ecco qua due specie di rane verdi che potete trovare a lignano partiamo da questa rana verde così propriamente detta e guardiamo la forma del suo muso per poterla riconoscere meglio è sempre appuntito gli occhi sono sporgenti e il colore va sempre dal verde scuro al verde chiaro e sono sempre presenti queste macchie nere queste marmoreggiature ma è una rana verde anche questa qui la raganella che sicuramente avrete sentito nominare la raganella pensate è grande la metà della rana che vi ho fatto vedere prima parliamo più o meno di questa dimensione è piccola e di colore verde brillante e si mimetizza perfettamente tra la vegetazione la sua caratteristica principale sono le sue dita le zampe terminano con questi polpastrelli adesivi cuscinetti adesivi si chiamano e le permettono di arrampicarsi anche sulle pareti verticali un'altra differenza così curiosità che vi possiamo raccontare oggi è rappresentata in queste due foto guardate la prima è una rana verde la seconda è una raganella questi che vedete rigonfi sono i sacchi vocali e servono ai maschi per richiamare le femmine le rane verdi ne hanno due la raganella uno solo è un'altra differenza